Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand Rinnegan Un attimo, siamo seri un istante Già che mi hai messo la corona molto Siamo seri Matt Oddio, no, guardi che potrebbero niente Vabbè, sei serio un attimo Ragazzi, 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 io non sto bene ultimamente C'è proprio sto male Io sto facendo un video con la febbre ultimamente Sì, ha ragione Sire, no, lo treco Sire Che schifo Ma che schifo? Sì, ma l'hai spuntato Ma stai zitto che l'ho messo nel fazzoletto dopo un botone eccesso Dai, senti Allora, ricapitolandolo Volevamo fare una roba diversa Giusto? Parli dai Sire, parli pure Allora Allora, la cosa importante è questa Dovete capire, volevo fare un attacco alla cieca diciamo Facendo cosa? Smettila! Senti, sto male ma ti legno lo stesso Mi scusi, mi scusi mio Sire Un attacco alla cieca in che senso? Allora, invece di guardare il tablet Questo Che è vedere la sua gente ricca perché è piena di sodio Le sedite di su di tu perché è il tablet Infilo questa Non è mica la sua Non sto facendo niente Anzi Voi avete visto qualcosa Usiamo questa? Scusi, nel... Nel vero età A questo lato Ma almeno l'acqua non arriva dentro Potrei spulcare Violentemente Ah, per amore sto male Allora, ragazzi, semplicemente Faremo l'attacco non guardando E l'iPad Ma guardandolo È pieno di soldi sto qui ragazzi Ma guardando lo schermo del PC Guardando lo schermo del PC E dice facile E no! E no! Sto gran cazzo! Allora io adesso metto il proprio tablet Sotto la scrivania Ok adesso tu guardi lì Tocca il munici Anzi tocca Tocca, non so L'accampamento in basso a destra Muro No, l'accampamento No, no Devi guardare L'attimo dato che devo guardare Mi cambio in mano lì Allora Prima devi farci vedere un attacco epico Anche questo senza guardare No, quello lo può fare vedere Ok, ok Allora ieri erano più o meno le mezzanotte e mezza Le mezzanotte e mezza Le mezzanotte e mezza Perché ci sono più mezzanotti in un giorno Sapete benissimo anche voi Solo nel mondo del Sire ovviamente Nel suo regno Il mio mondo è fatto da 12 mezzanotte al giorno Ok Fermi Mettiamo in pausa No, no Devo dire Con solo domatori e barbari Devo dire Ottimo Direi Cosa deve fare? Cosa deve farmi il naso? Oh Oddio Dai sai che sono un numero che ho detto Se hai ben chiaro che il suo virus è reale Cioè I suoi batteri hanno la corona Sì sì No 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 è vero ragazzi veramente sto male Anzi dovete mettere migliaia di like Solo perché facciamo la febbre E queste cose qua Esatto E io che riesco di prendermi la lembra Tu stai zitto La lembra è reale È passata tossica La lembra è reale Allora stavo dicendo Stavo cazzeggiando E beh fin qui Ho aperto il telefono Dio attacchiamo una casa Primo skip questo Primo skip? E ho detto It's John Cena John Cena E tutto quanto Blah bla bla Si fatevelo Mi ha chiamato lui It's John Cena Si m'ha capito Ho visto le risorse E ho detto E devo attaccarlo Assolutamente Ho visto che gli archivi erano scarichi 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 Re e Regina a livello 1 Eh E ho detto come possiamo Possiamo non fare tutto questo Allora Abbiamo fatto play E poi i domatori E dove cazzo gli hai messo i domatori? A caso Ah la hai Ma perché hai messo un domatore Versus un arciere E ha vinto il domatore E' rimasto il popolo No perché vedi ho messo di qua E dopo ho messo il popolo di qua Ah ok Ah Per le cosiddette strane no? Esatto Da questa parte vi leghiamo Esatto Poi vedi metto un po' di barbari Così Sì sì Ma è un attacco abbastanza semplice È una cagata Cioè È una strana Eh Questo attacco È una cagata pazzesca Su seguire 40 minuti di applausi Ininterrotti Mi è dispiaciata che ho lasciato a morire la regina Perché avevo sonno? Ah ah E dopo Muori Muori per il mio culo di letto No ma sei quello che viene la biocco in stanza Di letto Ho capito? Di letto perché aveva sonno Aspetta Allora sai quando ti è arrivato Il la biocco mostruoso? Mh Che veramente come è identificato tutto qua Oh che bello Che figata E dove è? La regina dov'è? E come fa a morire? Mi spiego Guarda vedi che sono Una regina avversaria Eh Ah Oh cazzo È stupita E anche quell'altro è stupito E poi ma cazzo La tua al 12 dovrebbe vincere no? Sì E infatti vince Ah il re barbara Non ti sento oltre Non ho usato nemmeno la furia Nooo Ti ho detto mi sono addormentato Vero è vero è vero Tra l'altro la regina Invece di colpire il re barbara Si era messa a sparare al muro Perché almeno il muro è pericolosissimo Esatto Quando c'è uno che ti sta dando una testata Cioè in una risa da strada Se voi è uscita di casa C'è un ubriaco che vuole picchiare E voi ti primo a Kitto E' sparata al muro 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 Ma se non mi sono gioiato In questo momento Dopo furieggio almeno col barbaro Boh però dai Bene dai 200.000 euro Un attacco di merda eh ragazzi No no è un attacco reale E' un attacco nobile E' un attacco nobile Ma di merda A 29 trofei Oserei dire anche Parecchi per un attacco così Oh ti sono la gola che mi sto uccidendo Bene adesso Ecco adesso c'è il bordello Adesso devi fare un attacco Lei Sira Devola fare un attacco alla ceca Eeeh Complimenti Oh T'ha un euro al 10 questo Cioè ne so se mi spiego Potrei fare una stella almeno Una stella secondo me la fa Cioè la Secondo me Attacca la del municipio Allora intanto Dovemmo prendere i barbari I domatori Prende i domatori Vada No vado del barbaro Vado un po' più a sinistra Ok i domatori Adesso io proporrei D'attaccare dal basso In modo che dopo il resto I reali Distruggano Tu controlli Mi scappa l'occhio No 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 Mette più in basso lì Ecco Allora Oh le è partita qualcosa No 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 Sono passati i secondi Allora Vada vada Allora Ma Ecco 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 Sono partiti i primi due Ecco tutti quanti Perfetto Rilling ha trovato Aspetta aspetta Le consiglio una cura Le consiglio Bravo Merda Merda Ok 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 Oddio 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 Mi piace assolutamente Mi piace assolutamente Ottomina mi piace Per l'attacco alla cieca Con Re Rinnegan Che potrebbe veramente Riuscire a fare Un attacco epico Senza No Ho purizzato con la regina Perché ho purizzato con la regina Perché non vedo Perché non vedo Non vedo neanch'io adesso Che sta succedendo a parlare barbara Aspetta Parceri Parceri Faccia il giro del villaggio Così magari riesci a fare il 50% Merda E a fare essere cazzo di stelle Bravo 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 Di qua di qua Di qua La regina sta andando Anche è andato Ah beh qui non c'è niente Ci sono difese Ci sono una testa piccola lì Ok Non può schierare truppe nella zona rossa Abbiamo capito cazzo Non vede Non guardo Cioè vedo ma non vedo Cioè come si può spiegare Vede ma non guarda Non guarda attentamente Guardi che il 38% Ce la può fare Ce la Ce la può veramente fare Un minuto mio dio Vada veloce Vada veloce Io le tolte a lei Sempre del voi Del vostri Non so Dei nostri Dei loro Guarda che dall'altra parte è tutto vuoto Attenzione Barbaro Qui siamo usati qui È bella percentuale Merda Dai dai Sì Quei due lì devono andare giù Oh Ma cosa Dove sta andando È zitto No no Va a guardare in alto Oh 47 Attenzione 47% Quello sarà un 48 48% Le cose La butti giù quelle cose Attenzione 49% Attenzione 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 Dai 8000 mi piace ragazzi 8000 mi piace per una parte E siccome non sono un barbone E siccome non sono un barbone Esatto Mi scriva Sire Grazie S E E Ecco No Non buttare via la veleno Presto La veleno Butti via la veleno in immediato Non possiamo mica tenere una veleno in invece Oh Perfetto Un attacco Un attacco decisamente epico Non ho preso niente Eh no 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 Vabbè ragazzi Io direi che Se vi vi è piaciuto Deve lasciare 8000 mi piace Perché Red Innegan Ha fatto un attacco Ho fatto questo per vai vincere C'è uno spoiler Il prossimo attacco Sì Una truppa per tipo Una pozione per tipo Tranne la pretta Perché non l'ho ancora Non l'ho ancora sbloccata Però ragazzi C'è un commento Aspetta 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 Torni nel villaggio Prego Oh beh ce la fa Dopo il terzo click È riuscito ad arrivarci Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi raccomando 8000 mi piace Ciao a tutti E al prossimo video Cioè sembra di no Ma è un bordello eh Faccia di merda